Ho finito il mio compito, ho salvato un sacco di gente, sono stato colpito da un drone, ho fatto questo con mio padre, mi sono finalmente presentato al mio compagno di stanza, ho incollato uno sticker dove mio padre non lo troverà mai, e quando mi sento solo e nessuno capisce quello che sto passando, ricordo i miei amici che lo comprendono. Grazie a tutti.